bellissimo ti è piaciuto? mamma mia arrivati? no, te ne è piaciuto vai cammino cammina, cammina, cammina cammina, cammina, cammina corri, corri, corri ok così si va più a testa per Dilma vieni, 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 vieni vieni, 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 vieni tieni così che mi fai girare ok, va piano 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 vai al centro, il corpo voli al secondo destra ecco